gentili telespettatori buona giornata caspiterina l'ashlein alla festa dell'unità arriva lui e dice ma non so chi sia la meloni la conosco ma chi è l'ashlein lui chi è lui chi è lui chi è lui joe bastianic tra i protagonisti della festa dell'unità di ravenna personaggio tv noto per essere stato giudice di masterchef suonerà con la sua band il prossimo 7 settembre al pala de andré e quindi va alla festa di partito dell'unità e non conosce chi è il capo del partito è bellissima non ha prezzo non ha prezzo joe allora che cosa dice joe per me è la prima volta una festa di partito è strano perché in ammarca se suoni a una festa di partito significa che tifi per quella parte in questo caso invece non c'entra niente joe non gliene frega nulla non lui non ecco al contrattare a contattarlo direttamente lo staff del partito e partecipiamo volentieri per noi è una data musicale non ha un significato politico le dico la verità essendo essendo ammaragano ho già le scatole abbastanza piene della politica degli stati uniti non mi mischio molto in quelle italiane va alla festa dell'unità no dove c'è bandiera rossa triunferà tra l'allero tra l'allà beh prende le distanze dal pd arrivando addirittura che a dire che il pd non mi appartiene personalmente io mi definisco un ippi un figlio dei fiori sono cresciuto nel mondo pace amore e musica insomma siamo lì sul livello della slide no love peace love and music vengo da quella cultura la country culture degli anni settanta ammaragane non è solo uno stile musicale ma anche di vita i ragazzi con cui suono la band la terza classe invece immagino che siano molto di sinistra la terza classe ma insomma vabbè comunque loro saranno molto di sinistra ma lui dice non me ne freca niente ed ecco che arriva la brutta batosta per ellish line che ha voluto joe bastianic alla sua festa e joe bastianic dice è di ellish line e lui dice chi ellish line e lui dice bah scusi ma non so chi sia chi è un attrice non so invece chi è giorgia meloni ma per me è un palco come un altro poi andrò ravenna città bellissima sono stato lì per una puntata di master shelf molti anni fa adoro i cappelletti al ragù fantastici insomma l'imprenditore apre le porte anche alla festa di fratelli d'italia dice se paga ci vado se paga ci vado la musica trasmette emozioni non è sempre politica anche se ci sono cantanti che lanciano messaggi politici ma noi portiamo la mosaca come festa emozioni e soprattutto devono pagare no emozioni personali amore vita le cose che mi appartengono veniamo dalla tradizione americana del folk blues il country ci saranno tanti pezzi inediti dal nuovo disco che è uscito che si chiama silverado e che parla di un viaggio americano un viaggio sonico bene quindi il caro joe bastianic lui dice basta che mi pagano io vado io vado da qualunque parte anche alla festa del condominio la festa del quartiere è la festa dei 25 anni di qualcuno basta che pagate e arriva joe bastianic insomma schlein fare arrivare uno come far arrivare un cantante alla festa dell'unità che manco sa chi sei e tu stai pagando lo farai arrivare perché ti piacerà come cantante perché magari cerchi di attirare di attirare magari anche persone che non gliene frega niente della festa dell'unità che vanno lì solo per sentire il cantante che sicuramente sarà così immaginate quanti entreranno alla festa dell'unità solo per ascoltare questo questo cantante che io ho sentito nominare qualche volta ma in realtà non so nemmeno né che faccia e non so neanche che cosa suona pertanto ecco però tanti lo conosceranno e tanti andranno alla festa a vedere a vedere appunto questo cantante si riempirà la festa dell'unità salamelle a go go questo che canta però alla fine alla fine che serve sinceramente ti porta elettori tu porti il cantante che ti piace allora cambi partito allora fra quattro anni voti per il pd perché ti ha portato alla festa dell'unità il cantante che preferisci quello della televisione quello di masterchef insomma e poi sono curioso ma quanto sarà costato sapete che il pd è un partito che dalla parte dei poveri per modo di dire ovviamente tra armocromia costi esagerati per farsi consigliare cosa mettere poi ti chiamano anche il cantante a pagamento quando potevano mettere benissimo un qualunque gruppo musicale sconosciuto ma comunque sapete quanti ce ne sono di gruppi musicali che suonano alle feste di paese che sono bravi ma che non conosce nessuno e che arrivano lì gli dai una salamella e loro cantano non li devi neanche pagare magari siete voi che pagate noi ecco però se chiami il famoso che vuole i soldi e così il partito paga non è non è un po un controsenso un partito che paga un cantante per una festa dell'unità no un partito che dovrebbe essere vicino agli ultimi insomma poi vabbè questa è una mia opinione ogni ogni partito faccia quello che gli pare però è divertente che questo va alla festa dell'unità festa di proprio comunista e non sa nemmeno chi e chi gli ha commissionato chi gli ha commissionato il lo stipendio la cantata il concerto va bene io vi ringrazio per avermi ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti grazie e buon proseguimento di giornata arrivederci a presto